Ciao io sono Elia Calò, ben ritrovato al giardino sotto il naso, ci troviamo qui nel mio previs picchisi, il barmita e siamo pronti per una nuova interessante ricettina. Ora questa ricetta è stata creata per tutti coloro che magari non sono dei bartender professionisti e a casa quando hanno degli invitati magari non sanno che cosa preparare. Quindi mi sono basato su due semplici ingredienti quindi ho ripreso il gin classico, il gin tonic, quindi niente di speciale e gli ho dato semplicemente un tocco, una leggera modifica. Ora ti capiterà sicuramente di maneggiare dei limoni in cucina e se hai la possibilità magari di avere dei limoni non trattati, biologici, quello che è e sei sicuro, o magari ti crescono i limoni nell'orto, meglio ancora, ti consiglio di raccoglierli, di lavarli e di pelarli assicurandoti che non ci sia la parte bianca. Una parte di questi, io ne uso una cinquantina di grammi più o meno per bottiglie, anche meno vanno benissimo, le ho prese e le ho tagliuzzate per bene e le ho messe e le ho infilate nella bottiglia. In questo modo ho ottenuto un gin aromatizzato appunto al limone. Partendo da questo presupposto andrò a fare un gin tonic, quindi gin al limone con acqua tonica, semplicissimo, ok? Così una volta che la bottiglia è pronta, quando verranno gli amici, in qualsiasi momento basta versare una tazzina di caffè o un qualsiasi misurino di gin, una porzione 5cl e top tonica. Quindi procediamo con il gin tonic, io ho già messo per motivi di velocità il ghiaccio nel bicchiere, andrò a togliere l'acqua del ghiaccio che si è sciolto e procedo a fare i miei classici 5cl di gin. Per fare questi gin aromatizzati, diciamo così, ti consiglio di utilizzare dei gin diciamo non costosissimi, anche perché non avrebbe molto senso. L'importante è che non siano di sottomarca, altrimenti ti viene il mal di testa. Quindi una porzione di gin, il ghiaccio l'avevo già messo, top con l'acqua tonica, gli diamo giusto una miscelata leggerissima, in modo tale da non sgasare molto l'acqua tonica e andremo a decorare con una fettina di limone, in questo caso. Ragazzi questo è un tocco di classe, qui abbiamo una bellissima cannuccia di equiseto che ho raccolto qualche giorno fa, io sono molisano e facevo una passeggiata nel bosco e ho raccolto l'equiseto. Quindi quello che mi ha avanzato ne ho fatto una camicia. Ed ecco a te il tuo gin lemon tonic. Alla tua salute e noi ci vediamo presto, anzi prestissimo. Ovviamente continua a seguire i miei canali Instagram, Facebook e Youtube, il giardino sotto e il naso e noi ci vediamo presto. Ciao!